L'incontro con i volontari bellunesi della protezione civile, la visita nell'anno in cui ricorre il sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont, ad alcuni luoghi simbolo di questa dolorosa pagina della nostra storia. Giornata intensa nel bellunese per il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, differenti rappresentanti istituzionali presenti, riunita a Longarone per l'occasione anche l'Upi regionale L'Unione Provincia del Veneto. In Veneto c'è una solida tradizione di protezione civile, un assessorato che lavora con grande impegno, l'assessore Bottacini ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo. Devo dire che in tutte le altre regioni si lavora con altrettanta passione, bisogna promuovere una cultura nuova della prevenzione strutturale, questo è il nodo, l'anello fragile che ho potuto cogliere andando in giro per l'Italia. Noi siamo più propensi a ricostruire che a prevenire la calamità. A Longarone Fiere il ministro Musumeci ha poi preso parte all'inaugurazione della 21esima edizione di Caccia, Pesca e Natura. 93 gli espositori quest'anno, fra italiani ed esteri, oltre 15.000 i visitatori attesi. Caccia, Pesca e Natura si sta dimostrando una fiera identitaria che parla di territorio in cui qui ci sono persone, imprese, volontari, appassionati che stanno cercando di valorizzare, di manutentare, di prendersi cura dell'ambiente. Una grande occasione, attenzione da parte anche del governo per una manifestazione che è cresciuta in questi anni, oggi c'è veramente tantissimo pubblico, è un segno importante soprattutto di attenzione verso il mondo venatorio, quello di pescatori che sono delle sentinelle anche del territorio. Un'occasione di crescita e d'incontro per gli addetti ai lavori e non solo. Racconta la nostra ruralità, cioè la nostra cultura rurale, cioè la nostra capacità di mantenere la natura anche e soprattutto attraverso agricoltori, l'abbiamo visto nella fiera scorsa, ma in questa con cacciatori e pescatori. Ecco, quando si dileggiano queste due figure o se ne vuole fare una comunicazione distorta, bisogna ricordare a tutti che se non ci fossero oggi aree come queste sarebbero pessimamente manutentate.